ci siamo adesso siamo pronti per questa pennetta all'arrabbiata la pasta è pronta la mettiamo nel sugo per farla mantecare io non ci aggiungo nessun tipo di formaggio c'è chi invece aggiunge il parmigiano ma ovviamente o il pecorino ma ovviamente il gusto è personale io la faccio col pomodoro con l'aglio col peperoncino fresco che c'è dentro e poi la faccio saltare tutto qua adesso andiamo a togliere l'aglio che ha fatto il suo lavoro qui ciao aglio devo saltare e andiamo a impiattare prendiamo i fuochi e siamo pronti per l'assaggio di queste penne all'arrabbiata e che ve lo dica fa